Essere o non essere, questo è il problema! Il mio problema solamente lei lo può risolvere, il resto è silenzio. Oh sì, il silenzio. Il silenzio. La seconda parte è migliore, va, che fa ti-ra-ra-ra, eccetera, eccetera. Il silenzio. Che d'oro. Il silenzio del mio cuore che tace da tempo. Chi? Eh? Chi? 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 Ma chi? Chi mai lo farà parlare? Che cosa? Il mio cuore. Io. Lei? Oh già. E potrà dedicarsi solamente a me? Ma, ma lei è libero? Beh, è libero in un certo qual senso, sì, cosa vuole. Tutti siamo schiavi del bisogno. C'è del marcio in Danimarca! Ma lei è senza alcun vincolo. Beh, io sto in un vincolo cieco, cara. Non più. No? Io ti porterò dal pelago alla riva. Dal? Dal pelago alla riva. A cercare il pelago nell'uomo? Ci sto. Tu Romeo, io Giulietta, rivivremo la scena del balcone. Quando? Stanotte. Ma dimmi dove stai? Oh, facilmente la casa troverai. È di stile veronese, dopo portici, in campagna. Oh là là, ma è una cuccagna! I tuoi gusti sono squisiti. I signori sono serviti. Non c'è un po' di più. È di stile veronese, ma è un po' di più. Grazie.